Sono candidato con l'Udc perché è stato sempre il mio partito da quando ho iniziato a fare politica. Ho rispetto di tutti gli altri schieramenti politici, ho rispetto del centro-destra, ho rispetto del centro-sinistra e mi auguro che la campagna elettorale, anche di chi si è messo in lista nei vari partiti, sia una campagna elettorale corretta nel rispetto di tutti i cittadini perché in questo preciso momento ci vuole tanta passione, ma soprattutto ci vuole tanta fiducia da dare ai cittadini di stargli vicino perché è una situazione particolare e che sapete tutti per quanto riguarda il mondo in Europa, le guerre, eccetera. Quindi deve essere una campagna elettorale nel rispetto dei ruoli, ma soprattutto una campagna elettorale vicino al cittadino che ce n'ha veramente bisogno. Non è la prima campagna elettorale che affronta, fino alla fine c'è stata l'incertezza o meno di candidarsi, insomma quali sono magari le idee che si hanno per questa campagna elettorale e soprattutto per il rinnovo del Consiglio regionale? Io mi auguro che il Presidente Marsiglio rivenca perché sono convinto, noi come centro-destra abbiamo fatto una lista per l'appoggio a Marsiglio e siamo convinti di questo, lavoreremo per questo, siamo abbastanza fiduciosi, noi rispetto agli altri partiti siamo un po' più piccoli, però anche noi daremo il nostro contributo per la vittoria di Marsiglio. Grazie. 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 Grazie.